Ciao a tutti e ben ritrovati qui su Game Sailors. Oggi ci occuperemo del quarto mondo di New Super Luigi U e precisamente del ghiacciaio candito. Con questo caldo fa quasi piacere vedere una mappa così fresca in cui cade addirittura la neve. Allora, iniziamo subito con il primo livello. Tirapugni, Stellari, vede protagonisti questi nemici che con i guantoni da box tendono a lanciarci contro Barili. Se potete equipaggiarvi con il costume da scoiattolo volante vi sarà un po' più semplice schivare i vari attacchi di questi nemici e soprattutto salire un po' più in alto. La prima moneta stella l'avete vista, era piuttosto semplice, soprattutto con questo costume. La seconda è questa qui, andava per essere raccolta, necessitava che uno dei nemici dello stage colpisse quella cassa. La terza invece necessitava un po' più di velocità proprio per evitare che quel nemico lanciasse il barile contro la cassa facendo precipitare poi la possibilità di raccogliere la terza moneta stella. Con il costume da scoiattolo volante dovreste comunque riuscire a prendere anche quella. Come vedete è uno stage piuttosto semplice se affrontato con questo power up. Secondo stage è leggermente più complesso in quanto vede protagonisti questi pinguini che sono dei nemici piuttosto imprevedibili in alcuni casi, necessitano di due colpi per essere sconfitti e oltre a quello c'è anche questi funghi che dondolano e che obbligano a muoversi abbastanza rapidamente per evitare che si sbilanci troppo. Allora con il fiore di ghiaccio voi dovreste riuscire a colpire i pinguini che arrivano in modo tale da impedir loro di colpirvi. Dopodiché una delle cose migliori da fare per prendere la terza moneta stella che è quella più problematica consiste nel ghiacciare questo pinguino e fermarvi su di esso. Una volta fatto quello lui continuerà, vi farà guadagnare anche parecchie vite extra e vi permetterà di raggiungere la terza moneta stella. Questo livello metteva in mostra tutte le monete ma alcune erano un pochino più complesse da recuperare invece in questo nella prima fortezza, nella fortezza diciamo di metà mondo è un pochino più complicato perché alcune monete sono nascoste e quantomeno sono parecchi i passaggi segreti. Questo è il primo, cercate di muovervi rapidamente verso destra per evitare poi di dover rifare il giro su questa piattaforma. Qui bisogna evitare le stalattiti, stalattiti che cadono quando ci passate sotto. In questo caso cercate di rimanere sulla punta, qui riparatevi sotto i blocchi e qui cercate di eseguire dei salti moderati salti moderati che in questo caso dovreste riuscire a prendere la moneta senza salire al piano superiore. Qui se poi riuscite a agghiacciare un po' di quei nemici e soprattutto ora come in questo caso trovate già dei buchi sul soffitto dovreste passare in dennis sotto a questa sfilza di stalattiti che altrimenti vi cadrebbero sulla testa. Qui invece portatevi subito a sinistra e cominciate a muovervi verso quella direzione per scovare questo passaggio segreto che vi farà entrare in questa stanza con la terza moneta stella. Utilizzate il tubo qui a sinistra e verrete sparati verso l'alto verso la fine dello stage. Qui se volete c'è un power up, in questo caso in bella vista e poi dirigetevi tranquillamente verso il portone. 100 secondi vi vengono aggiunti e poi ci troveremo a combattere contro il solito boss ormai questo boss ci accompagna da Super Mario Bros 3 per NES quindi è un boss che dovreste conoscere bene. I salti che effettua nonostante Kamek gli abbia conferito non sappiamo bene quale potere sono un po' sempre gli stessi quindi è piuttosto semplice sconfiggerlo. Saltategli in testa appena si riprende la battaglia si concluderà in fretta. Ghiacciaio in fiamme questo è un pochino più complesso allora la cosa migliore da fare sarebbe equipaggiarsi con un fiore di fuoco non avendolo noi abbiamo trovato questo modo e siamo riusciti a planare sotto a quei ricci e ad entrare in questo tubo nascosto che appunto celava la prima moneta stella. Qui se riuscite a prendere tutte e tre le monete ora vediamo se riusciamo a combinare vi viene dato un fungo one up invece qui sulla sinistra troverete la seconda moneta stella la trovate proprio qua sui tubi è nascosta da quel muro invisibile qui le abbiamo combinate di tutti i tipi ci sono stati colpiti già un sacco di volte un power up lo prendiamo poi quella P trasforma tutte le monetine di sotto in blocchi qua noi vogliamo fare gli esagerati e prendere anche l'ultima monetina azzurra facendo veloce però riuscirete a raggiungere senza particolari problemi anche la terza moneta stella uno stage non troppo complesso e che ripetiamo se potete usufruire di un fiore di fuoco diventerà ancora più semplice questo stage vede di nuovo queste sorte di bilance queste piattaforme a bilancia e dei pallottolo bill anche piuttosto grossi tra l'altro prima moneta stella si ottiene facendo un salto a parete qui se scivolate otterrete in automatico il costume da scoiattolo volante la seconda moneta è facilmente raggiungibile la terza richiede un pochino più di tempismo perché dovrete rimbalzare sullo scoiattolo che sarà là sotto ora qui vediamo cosa riusciamo a combinare direi che ce l'abbiamo fatta alla grande in questo stage passiamo ora al quinto livello tirata sul ghiaccio uno stage un po' diverso dai soliti anche perché ci offre la possibilità di indossare questa tuta da pinguino per tutto lo stage da qui in poi dovete tenere premuto al tasto la direzione giù del controller in modo tale che Luigi Pinguino scusate abbiamo chiamato Mario possa scivolare sulla pancia per tutto il livello non dovreste avere particolari problemi l'importante è avere un attimo i riflessi pronti e saltare nel momento giusto potete attraversare tutto il livello senza mai fermarvi se vedete noi ce la dovremmo fare abbastanza agevolmente addirittura potrete scivolare sulla pancia sull'acqua e poi prima di entrare nel tubo ricordatevi della terza moneta stella che è nascosta qua sopra raccogliete ancora un pochino di moneta scivolate sulla pancia sul finale e dovreste arrivare tranquillamente sull'apice della bandiera altro livello completato ci troviamo ora in uno stage che è il primo stage nel quale vi faremo vedere anche un'uscita segreta abbiamo pensato di farvi vedere tutte le uscite segrete e i relativi livelli alla fine in un giocato a parte che appunto racchiuda tutti gli stage segreti e il modo per raggiungerli in questo caso abbiamo dovuto fare un'eccezione perché l'uscita in questo caso segreta nasconde anche una moneta stella quindi se volete ottenere una moneta stella tutte e tre le monete stelle di questo stage dovete per forza raggiungere l'uscita segreta ora in questo caso la prima moneta stella o meglio la seconda moneta stella se ci fate caso l'abbiamo raccolta attraverso un salto a parete là in cima qui passando sotto si distruggerà quel blocco e recupererete la terza e ultima moneta stella ora tornando invece tutto indietro dobbiamo tornare dove abbiamo trovato in pratica la prima moneta stella cioè noi l'abbiamo trovata lì sopra tornando indietro ed eseguendo dei salti a parete vedremo che andando tutto a sinistra raggiungeremo una porta nascosta ora ci proviamo vediamo cosa ecco ok da qui saltate a sinistra e continuate a correre lui ci cadrà in questo buco e voi potrete entrare in questa porta altrimenti celata saltando sopra questi blocchi cercate di farla perché i blocchi poi scompariranno potrete raccogliere l'ultima o meglio la prima moneta stella del livello che curiosamente è l'ultima che abbiamo raccolto il castello che avete visto è più scuro questo indica sempre un'uscita segreta e questo è il percorso alternativo che abbiamo che si viene a creare ricordatevi che lo stage precedente va terminato anche attraverso la sua uscita classica ora qui noi vi rifacciamo vedere invece ripartiamo dalla terza moneta stella quella che avevamo recuperato e continuiamo in avanti come vedete eravamo quasi arrivati in fondo poi c'era questa porticina e poi semplicemente qualche gradino per raggiungere poi l'uscita che teoricamente è quella principale così facendo potremo poi accedere al livello finale dello stage dello stage del mondo questo è il castello il castello di Wendy dovete ovviamente muovervi molto rapidamente su quei blocchi in quanto i tuomp cadono e nel frattempo rompono anche il pavimento qui utilizzando il potere dello scogliattolo volante siamo rimasti attaccati alla parete parete che ora non ci potrà più vedere attaccati quindi qui dobbiamo fare un salta parete abbastanza calibrato per raccogliere la seconda moneta stella qui correte più che potete eseguire questo fare questo pezzo di livello di corsa al modo migliore è un po' tutto da fare di corsa in realtà questo stage visto che anche in questo caso vedete che non possiamo fare grandi cose qui noi siamo arrivati fino in cima lì per lì pensavamo che si potesse che là in cima sul soffitto si potesse nascondere una moneta stella l'abbiamo controllato bene e abbiamo visto che lì sotto esattamente dove il tuompo cade c'è dello spazio solitamente quello spazio ecco infatti ci indica una via segreta in questo caso proprio la via che ci portava alla terza e ultima moneta stella dritti nel portone azzurro ci dirigiamo verso la nave di di wendy si entra nel cannone si viene sparati e si e si inizia il combattimento un combattimento molto semplice non fatevi ingannare né dalle dalle stalattiti che sembrano cadere né tanto meno dall'ambientazione ghiacciata considerate che saltando saltare è il modo migliore per evitare di scivolare sul ghiaccio inoltre se riuscite a contare uno ora passerà sotto luigi ora passerà di nuovo e al terzo passaggio prima di tornare indietro lei si fermerà e ricomparirà qui abbiamo perso un power up però niente di tragico visto che comunque abbiamo potuto eliminarla rapidamente senza che usasse la sua bacchetta magica e cominciasse a combinare guai per quella stanza quarto mondo completato vi abbiamo fatto vedere anche un'uscita segreta il livello dell'uscita segreta però ve lo faremo vedere in un secondo tempo in un video che raccoglierà tutti gli stage segreti appunto del gioco vediamo appuntamento quindi al quinto mondo e noi ci vediamo presto ciao a tutti